Tanti modi per dire auguri. In occasione della giornata mondiale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza è stato presentato in municipio il programma delle iniziative che il Centro per le Famiglie del Comune di Piacenza propone nel periodo natalizio in collaborazione con l'Associazione Le Valigie e con il coinvolgimento sia dell'Emporio Solidale sia dell'Ufficio Comunale per le attività socio-ricreative rivolte alla terza età. Il Centro per le Famiglie è un centro aperto quindi intreccia anche la disponibilità, l'interesse e la creatività di altri tutto chiaramente nell'ottica di lavorare sempre di più e al meglio con i nostri bambini e nostre bambine e ovviamente con i loro riferimenti genitoriali parentali. Dal 3 al 22 dicembre sono in calendario laboratori, momenti di gioco e spettacoli teatrali con un forte richiamo alla solidarietà e alla coesione sociale. Tutte le iniziative si possono consultare sul nostro sito liberta.it di gioco e spettacolo.it